oh basta ma c'è tutto sui casi ma c'è stai a fare? no 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 bello bello è d'atto nella calmata che poi stiamo soltanto a fare un po di esercizi per gli addominali oh ma che cazzo è di mascherino? che cazzo è carnevallo? ma che cazzo è di carnevallo? ma come cazzo è che stai a fare? ma come cazzo è che stai a fare parte? ma come cazzo è voglio mire sempre farmi a fare questi cazzo fedeli haiti cosa vuoi fare? queste sono cose cozzali fischi cozzali fischio che cazzo di fischio che svolacchiano la pernacchi ma non è che sta droga di cesta creature vabbè ma certo rimane ma sicuramente qualche scien per malo se lo pensi che agli ecco una bella focaccia con pomodori microchip e un cellulare così puoi giocare a minecats e magari vederlo a casa di cartagessenza il capricorno forse volevi dire il cancro haidi che schifo non leccare il microchip lo sta il silicio lo stranzio te pichi malati della droga l'adsl l'ids fastweb l'idsl i cazzate ma haidi dai un bacio a nonno che devo andare a raccogliere le stozzere vabbè così va a me e ma il telefono c'è vuoi ma come funzionano i morti di bottone i morti di internet i morti della tecnologia e apriti i morti di wifi i morti di instagram ehi apriti apriti voglio oh ehi apriti chi è? no ehi la... 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 c'è cosa? il campionato vecchiano... ma che stai dicendo? stuccazza maratone usano d'aiuto sotto perché stai mettere l'upe l'upe ti man nasa da coglare lì appena me ha fatto il biste ma vedi cap all'iscia armand da armadio Ah ah